Un teatro santuccio gremito con in prima fila i vertici locali del partito, dal sindaco Davide Galimberti al senatore Alessandro Alfieri, ha accolto oggi l'arrivo a Varese di Stefano Bonaccini, il presidente della regione Emilia-Romagna, candidato alla segreteria del partito. Il PD deve tornare a essere la più grande forza laburista, capace di rimettere al centro il lavoro, le imprese e la sanità, ha detto Bonaccini, un partito che stia più tra la gente e sappia raccogliere sul territorio quella classe dirigente finora tenuta lontana. Deve sostituire quella che Roma ci ha fatto perdere. Se diventerò segretario mi permetto di dire che cambierò subito il gruppo dirigente, ha concluso Bonaccini aggiungendo, invidio tantissimo la destra, ne fa una buona e male ma parla solo di quella buona.